Nel piccolo viaggio che stiamo intraprendendo alla scuola della santità, della spiritualità e delle opere di alcune figure di santi e beati che hanno toccato in vario modo il territorio della Rosceria nel Basso Lazio, non può mancare una figura straordinaria fondamentale nella storia del carisma del preziosissimo sangue, cioè San Gaspare del Bufalo, la cui memoria liturgica accade il 28 dicembre, anche se la congregazione dei missionari del preziosissimo sangue che proprio da lui, da San Gaspare, ha avuto inizio, celebra, festeggia il suo fondatore il 21 ottobre. Nel 1808 il sacerdote romano Francesco Albertini istituì una confraternita dedicata al preziosissimo sangue di Gesù per onorare la reliquia conservata a Roma nella basilica di San Nicola in carcere, secondo la tradizione un brandello della veste di Longino, il nome attribuito al soldato romano che avrebbe colpito con la lancia al fianco di Cristo, crocifisso, con una macchia di sangue del Signore. Fin dagli inizi, tra i più validi collaboratori dell'Albertini, nella diffusione di questo nuovo culto, vi fu un altro sacerdote romano, Gaspare del Bufalo, che sarebbe diventato poi il fondatore dei missionari del preziosissimo sangue. E una protagonista altrettanto cruciale di questa nuova spiritualità fu ovviamente Santa Maria di Mattias, che nel 1834 fondò le Adoratrici del preziosissimo sangue, oggi denominate Adoratrici del Sangue di Cristo, ramo femminile, in sostanza, dell'opera ispirata da Dio a San Gaspare. Fu proprio quella corrente di fede e di devozione che portò il beato Papa Pio IX nel 1849 a indire il primo luglio la festa del preziosissimo sangue, unita dalla riforma liturgica a quella del Corpus Domini. Il 30 giugno 2018, ricevendo in udienza i partecipanti ad un incontro degli istituti religiosi e laicali che si ispirano alla spiritualità del sangue di Gesù, Papa Francesco affermava che Dio ha scelto il segno del sangue perché nessun altro segno è così eloquente per esprimere l'amore supremo della vita donata agli altri. Aggiungendo poi che la meditazione del sacrificio di Cristo ci induce a compiere opere di misericordia donando la nostra vita per Dio e i fratelli senza risparmio. E rimarcando che la vera forza della testimonianza cristiana deriva dal Vangelo, Francesco in quella occasione sempre sottolineava che è qui che emerge la centralità del sangue di Cristo e della relativa spiritualità. Si tratta infatti di fare affidamento soprattutto alla sovrabbondanza d'amore espressa nel sangue del Signore. In tal senso si offre a noi ancora oggi come modello la figura di San Gaspare del bufalo che si sforzò di tenere vivo l'ardore della fede nel popolo cristiano percorrendo le regioni dell'Italia centrale, sono ancora le parole di Papa Francesco. Con l'esempio del suo amore a Dio, della sua umiltà, della sua carità, egli seppe portare dappertutto la riconciliazione e la pace, andando incontro alle necessità spirituali e materiali delle persone più fragili che vivevano ai margini della società. Gaspare era nato a Roma il 6 gennaio 1786 e fin da ragazzo aveva manifestato una particolare attrazione per una vita dedita alla priera e alla penitenza. Completati gli studi presso il collegio romano si diede ad organizzare opere di assistenza spirituale e materiale a favore dei bisognosi. Ordinato sacerdote il 31 luglio 1808 intensificò l'apostolato fra le classi popolari fondando il suo primo oratorio in Santa Maria in Pincis e specializzandosi nella evangelizzazione dei cosiddetti barozzari, carrettieri cioè contadini della campagna romana che avevano i loro depositi di fieno nel foro romano. Per la Chiesa intanto non correvano affatto tempi facili. All'inizio di luglio del 1809 Papa Pio VII era stato fatto prigioniero e costretto a residenza coatta a Savona per ordine di Napoleone. Proprio per aver rifiutato il giuramento di fedeltà a quest'ultimo il 13 giugno 1810 lo stesso Gaspare del Bufalo venne condannato all'esilio e poi al carcere tra Bologna, Imola e la Corsica, una pena che egli sostenne con animo sereno per ben quattro anni. Tornato a Roma nei primi mesi del 1814 dopo la caduta di Napoleone, Gaspare mise le sue forze e la sua vita al servizio del Papa che gli affidò il compito di dedicarsi alle missioni popolari per la restaurazione religiosa e morale della gente. Quale mezzo efficacissimo per promuovere la conversione dei peccatori e debellare lo spirito di impietà e di ostilità alla fede cristiana diffusosi durante gli anni napoleonici, Gaspare scelse la devozione al preziosissimo sangue di Gesù. Il 15 agosto 1815 fondava appunto la congregazione dei missionari del preziosissimo sangue e nel 1834 ebbe un ruolo di primo piano nella fondazione del ramo femminile della stessa dovuta a Maria de Mattias, la cui vita ebbe una decisiva svolta proprio ascoltando la predicazione di San Gaspare durante una missione a Valle Corsa, il paese di origine di Maria de Mattias. Gaspare sostenne con grande coraggio la lotta a Canita che gli mossero le società segrete, in particolare la massoneria, e nonostante le minacce e gli attentati alla sua stessa vita fisica, non cessò mai di predicare apertamente contro tali sette, convertendo intere logge massoniche e senza stancarsi di mettere in guardia il popolo cristiano contro la loro propaganda satanica. Un altro campo di battaglia apostolica del nostro santo fu quello del brigantaggio, una piaga che si andava diffondendo velocemente nello stato pontificio durante l'ottocento. Papa Leone XII inviò Gaspare nelle zone battute dai briganti e l'apostolo del sangue di Gesù con le sole armi del crocifisso e della misericordia evangelica riuscì a ridurre la terribile piaga sociale nei dintorni di Roma e nella provincia di Marittima e Campagna dello Stato Pontificio, riportando pace e sicurezza tra le popolazioni. Gaspare morì a Roma, dove era nato, il 28 dicembre 1837, fu beatificato da San Pio X il 18 dicembre 1904 e canonizzato da Pio XII il 12 giugno 1954, 70 anni fa. Il suo corpo riposa oggi a Roma, nella chiesa di Santa Maria in Trivio, a Fontana di Trevi. Sue reliquie sono però venerate anche nel santuario a lui dedicato e molto frequentato ad Albano Laziale, luogo della sua prima sepoltura. Oggi tra l'altro San Gaspare e patrono della città di Sonnino, in provincia di Latina, uno dei centri in cui fu molto attivo il brigantaggio. Per riascoltare almeno in parte la voce di questo grande santo, ascoltiamo alcune sue parole che ci sono state lasciate grazie ai suoi scritti. Dice in una circostanza, vorrei avere mille lingue per intenerire ogni cuore verso il sangue preziosissimo di Gesù. È questa una devozione fondamentale che abbraccia tutte le altre. Essa è la base, il sostegno, l'essenza della pietà cattolica, la devozione al preziosissimo sangue. Ecco l'arma dei nostri tempi. In un altro frammento dice, il Dio è buono e quanto egli è, quanto sa, quanto pensa, quanto desidera, quanto ordine vuole, tutto è bontà. Bontà è quella per cui provvede, bontà quella per cui comanda, bontà quella per cui ama, quella per cui ammette e quella per cui rifiuta e si rallegra conforme al sacro parlare e si duole e si adira e si pente e si ricorda al nostro modo di intenderci e si dimentica sol per bontà. Per bontà egli creò l'universo e per bontà lo conserva. Non vi è in tutto questo universo di bontà una minima particella che non sia sua. Grazie a tutti.